Sono Marco Pizzi, sono rappresentante dell'associazione Mondo Libro della Droga di Padova. Lo scopo della mostra è quello di fare prevenzione tramite l'informazione. La mostra funziona in questo modo. Ci sono 20 pannelli con foto, con didascalie, c'è anche uno schermo dove si possono vedere 16 annunci di pubblica utilità, è anche un documentario che si chiama Mondo Libro della Droga, e le persone, osservando, guardando questi pannelli, passando attraverso questa mostra, vengono a conoscenza degli effetti delle droghe, di quello che è il mondo di chi fa uso di droga e con questa consapevolezza può a quel punto decidere consapevolmente, con la propria testa, di vivere una vita libera dalla droga. Perciò vi invito tutti quanti il giovedì 14 gennaio, qui a Villa Bassi, all'Eure 11, all'inaugurazione di questa mostra, voluta da questa amministrazione, su un tema di attualità, un tema scottante, magari poco sensibilizzato, ma che nasconde un grosso problema, soprattutto tra i giovani. Questo vuole essere una mostra per la città di Abano, per tutti, per i giovani, per i meno giovani, per capire di non entrare in questo mondo e capire magari come uscire da questo mondo, magari con qualche piccolo input può servire di aiuto. Grazie.